Il patinaggio artistico è considerato come uno degli sport più completi del panorama agonistico. La SD Patinaggio Artistico Taranto organizza corsi di patinaggio artistico a rotelle rivolti a bambini e ragazzi in età compresa tra i 4 e i 18 anni. Gli allenamenti sono tenuti da tecnici federali. I corsi si terranno a Taranto, presso il Palamazola, e a Carosino, presso il Patinodromo Comunale. Per maggiori informazioni consulta la nostra pagina Facebook ASD Patinaggio Artistico Taranto o contatta i numeri in sovraimpressione. Ti aspettiamo! Per i nuovi iscritti le prime tre lezioni sono gratuite. Per maggiori informazioni consulta la nostra pagina Facebook ASD Patinaggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti